L'ultima ospite è Margherita Lilita Conrieri, medico pediatra all'ospedale infantile Regina Margherita, scrittrice, a lei e alla sua famiglia dobbiamo restauro e l'apertura al pubblico del Meleto, la dimora a Greste di Aglie del poeta crepuscolare Guido Gustavo Gozzano. Grazie a nome di tutti quanti noi chiamiamo Gozzano, potevate farne una pizzeria, una discoteca, una piscina, invece avete tenuto la casa di Guido Gozzano, anzi recuperando mobili, recuperando, c'è casa per casa, quindi un lavoro davvero a complimenti, tanta fatica. Lilita, come mai? Lilita è un soprannome che nasce dall'incapacità di mia sorella quando era piccola, che ha un paio d'anni più di me, di chiamare Margherita, quindi è venuto a Lilita e così mi firmo, come medico, così scindo le due personalità, il medico e Margherita, la scrittrice, la poetessa e Lilita. Bene, allora vediamo le prime fotografie per fare insieme questo viaggio nella tua storia umana e professionale. La prima fotografia è una Lilita fotografa, che è una tua grande passione, infatti molte foto del libro Guido Gozzano, un poeta in viaggio da Torino al Mereto di Aglie, della Daniele Piazza, editore, appartengono al tuo archivio fotografico. Sì, diciamo che alcune foto appartengono all'archivio fotografico, altre le abbiamo rifatte, in questo mi ha molto aiutato un amico fotografo, Pierpaolo Valgoglio, col quale io collaboro spesso e facciamo anche delle mostre fotografiche e di poesie insieme. Beh, la fotografia è diventata molto importante anche per raccontare i nostri tempi, no? Cioè, ad esempio, i reporter senza frottiera hanno raccontato, e stanno raccontando la storia grazie alla fotografia. Quindi è diventato... Sì, e poi diciamo che la fotografia è un modo di rappresentare anche delle realtà in un certo con l'immagine, mentre poi la scrittura, la poesia rappresenta la stessa cosa con le parole. Quindi, secondo me, c'è abbastanza un'integrazione fra le due arti. Quindi, infatti, è una cosa che noi cerchiamo, ma lo stesso Gozzano, se vogliamo, si era dilettato anche di fotografia. Lì al Meleto c'è una macchina fotografica inizio secolo. Poi parleremo dopo del Meleto, perché c'è tutto un percorso da fare, perché poi c'è il sarotto di Nonna Speranza, insomma, ci sono tante cose importanti per chi ama Guido Gozzano. Adesso arriviamo al secondo libro, per parlare invece dell'altra tua passione, che è la scrittura. E qui siamo, un libro di poesie, che è la collezionista di Sguardi, Daniela Piazza, editore, che sono poesie del 2006. Ecco, che poesie sono? Lì sono poesie anche un po' di anni precedenti, poi terminano col 2006, perché è stato stampato nel 2006. Comunque sono poesie di vario genere che ho voluto suddividere, infatti nel libro c'è una suddivisione, la campagna, la città, i personaggi e gli sguardi. Cioè proprio suddividerle a descrizione di vari momenti, insomma. Giovanni Arpino parla ad esempio di campagna come utopia e di città come apocalisse. Trovi giuste queste definizioni? Ma diciamo che, non lo so, nel senso che io vivo in città, amo abbastanza la città, quindi non la vedo tanto come un'apocalisse. La campagna è chiaramente un'altra cosa, però anche la campagna può diventare un'apocalisse, cioè dipende sempre da quello che uno ha dentro e quindi come vive sia la città che la campagna che il mare. Se no, la campagna, se uno non ha degli stimoli particolari o dell'interiorità particolare, finisce che diventa un'apocalisse anche a volte di noia, di così.